266 Ci permettiamo di condividere questo perché insomma il livello è altissimo in una finale di un campionato del mondo Restiamo ancora alla pedana del Paralleli Asimmetric dove si sta disputando questo duello tra Francia e Canada Ripetiamo, andiamo a vedere Caroline Edui La Spencer, la canadese prima di lei, 12.433 Potrebbe essere l'esercizio del forpasso per la Francia ma non deve sbagliare niente l'Edui Stalder Kaciov, leggermente basso Piantata, Kaciov fa gambe aperte Giappone, 14.40 al volteggio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti